ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora in avvi reaccio allora per chi non mi conoscesse io questo canale cerco di portarvi tutti i giorni dei video nuovo nuovi nuovo perché ok cerco di portarvi tutti i giorni di video nuovi di cantanti da tutto il mondo oggi siamo andati un po in america siamo andati un po ad ascoltare un po di musica classica come michael jackson eccetera eccetera e adesso ritorniamo in turchia per andare a ascoltare ben ferro la canzone si intitola baba fingo quindi partiamo subito ragazzi con ben ferro tanto che il mondo ok ragazzi c'è da dire che lui ha uno stile tutto suo e mi piace a me sinceramente piace molto del ferro ha uno stile tutto suo e piace molto partiamo è uno stile veramente molto molto particolare partiamo ragazzi cosa stai facendo cosa stai facendo cosa stai facendo Oh mio Dio ragazzi È troppo fuori di testa Poi cavolo è palestrato C'è un fisico ragazzi pazzesco Ok Ma di che cosa sta parlando in questo film? L'unica cosa che ho capito io ben ferro King Kong Mi sta paragonando se stesso a King Kong Ok L'unica cosa ho capito Dai partiamo Eeeh Aspetta aspettate aspettate Qua non voglio perdere nulla Ok partiamo ragazzi Ok partiamo in questo film Ora paramo Chai Mi haito C'è un fisico Chai Chai Ok, benferro. Bu ne? Bu ne? Tamam, arkadaşlar. Non capisco se lo fa con autotune o se è veramente la sua voce. Molto particolare, partiamo. Buongiorno. F différentes per meydan hoş люсs every kabin pones Vollen Bingo Too Bingo Hey Cip Cip A A Bingo 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 Cip Bingo Ok Ok ragazzi Partiamo Bellissimo Ehi Rest in peace Kimbo Slice Kimbo Slice Chi è? Rest in peace Kimbo Slice Non lo conosco Ok Ok ragazzi Come sempre è stato un piacere Fare una video reazione su Benfero Veramente mi piace Mi piace Tra i miei preferiti assolutamente Tra Egel, tra Cesar C'è Benfero, Patron Mi piace anche Joker Devo dire che mi piace Ci sono un bel po' di cantanti che mi piace Sicuramente Benfero Ne fa parte perché è veramente molto 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 bravo Ragazzi per questo video era tutto Se vi è piaciuto Vi raccomando iscrivetevi al canale Così non ne perdete neanche uno Poi se avete delle canzoni da suggerirmi Sono sempre ben accette Quindi lasciatemi nei commenti Perchè cercherò sempre di portarle Ok? Buona serata a tutti E ciao dall'Italia Ciao Ciao